Le abbiamo chiamate finte case vacanza, case fantasma, truffe al mare. Oggi, per 30 casi, scattano 6 denunce di altrettante persone residenti in tutta Italia. A deferirle sono stati i carabinieri della stazione di Gallipoli. È la città bella, infatti, la meta preferita dei vacanzieri nel Salento e quindi il luogo migliore in cui inscenare la truffa. I denunciati non si conoscono tra loro, ma agivano allo stesso modo. Aprivano, su siti di annunci online, finti profili intestati a persone inesistenti, fornendo, tramite email, dati personali e contatti altrettanto fasulli. In alcuni casi si spacciavano per agenzie immobiliari. Inserivano, quindi, in questi siti, annunci di affitto di case vacanza di loro presunta proprietà o disponibilità situate nelle migliori zone balneari di Gallipoli, Baiaverde, Lido Conchiglie, Lido San Giovanni e altre. Allegavano anche delle foto di appartamenti e villette per rendere l'annuncio il più veritiero possibile. Agganciato il malcapitato potenziale inquilino, spedivano via mail un contratto di locazione ad uso turistico, che poi, firmato, veniva reinoltrato sempre tramite posta elettronica. A questo punto il locatario pagava la caparra attraverso un bonifico bancario o ricarica su carta prepagata. Giunte finalmente nella località turistica, davanti alla casa che erano convinte di aver preso in affitto, le vittime trovavano appartamenti già occupati o addirittura inesistenti. I casi si riferiscono all'estate 2014. Le sei persone denunciate sono un 49enne di Erba, un 33enne di Como, un 28enne di Soleto, unico salentino, un 52enne di San Fiorano, in provincia di Lodi, un 31enne di Salerno ed un 25enne della provincia di Salerno. Le indagini dei militari della stazione di Gallipoli hanno permesso, mediante l'analisi dei profili degli indirizzi di posta elettronica, e seguendo a ritroso i flussi di pagamento, di individuare i sei diversi autori delle truffe, capaci di imbrogliare in oltre 30 casi complessivi e riuscendo a distorcere cifre oscillanti tra i 500 e i 700 euro di affitto, per oltre 15.000 e 21.000 euro totali.